Avevo tralasciato la parte più importante secondo me che era la mia salute mentale praticamente, poi con la mia psicologa dello sport sono riuscito tramite un percorso a tornare con quel sorriso che mi ha sempre caratterizzato che avevo un po' perso però stavo pensando a mangiare tutto il giusto, dormire le ore giuste perché così il fisico è a posto eccetera eccetera ma alla fine il fisico è solo il mezzo l'atleta è la testa, cioè la testa, il pilota è la testa quindi io, c'erano momenti in cui fisicamente stavo da Dio una condizione mai raggiunta però ho fatto gare di merda e in momenti in cui non ero a postissimo ma di testa ero in un good place, ero alla grande e potevi essere chiunque e ti passavo davanti e ti battevo col turbo